Parte la rotamazione delle cartelle. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il servizio web in modo da agevolare gli utenti per capire cosa è possibile far rientrare nella riduzione dei conteggi. Sul sito è possibile compilare direttamente online la domanda, poi successivamente arriverà via mail il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella definizione agevolata prevista dalla legge. Il prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di definizione agevolata. L'utente deve entrare nel sito, inserire i dati richiesti e riceverà via mail un link. Successivamente il servizio trasmetterà una seconda mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell'istanza. Se la documentazione risulta corretta il contribuente riceverà un'altra mail di accoglimento con il link per scaricare il prospetto informativo entro cinque giorni. È possibile chiedere il prospetto informativo anche dall'area riservata del sito con le credenziali SPID, C e CNS e per gli intermediari fiscali. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà entro le successive 24 ore una mail all'indirizzo indicato con il link per scaricare il prospetto entro cinque giorni.